E' il 1987, lui ancora minorenne, viene scelto da Gino Landi per ballare in festival. Balla in alcuni momenti anche con me come solista, da quel momento non si ferma più, poi un giorno decide di salire su un aereo per andare negli Stati Uniti perché lui vuole ballare con Michael Jackson. E con Michael Jackson ballerà e non solo, perché tante star internazionali vorranno averlo al loro fianco. Oggi però è ritornato da me per un caffè, però è ritornato da me Luca Tommassini. Luca, intanto mi fa veramente tanto piacere, è un sacco di tempo che non ci vediamo noi. Esatto, pubblicamente e anche privatamente, devo dire, perché poi siamo stati lontani. Perché poi insomma la vita e il lavoro soprattutto ci hanno portato in altri lidi. Senti, il caffè tu come lo prendi? Dolce o amaro? Io ci metto metà cucchiaino, anche e soprattutto se fatto con la moca. Ecco, vabbè no, perché abbiamo fatto una discussione prima di cominciare, perché lui preferisce le cialde. Io preferisco il bar, ma la cialda me lo ricorda di più, la moca no. Senti, ma tu te lo ricordi quando da piccolino io ti davo le prime lezioni in base di tip tap? Ma ancora mi aspetta, mi hai insegnato questo? Questa è la chiave, la chiave fondamentale. Tu, tu, tu. Mamma mia. Certo me lo ricordo. Sono passato un po' di anni. Sottoterra, quel cinema che ancora sta lì e tu eri incredibilmente, devo parlare di te? No, non devi parlare di me. Cioè parliamo di noi, parliamo soprattutto di te. E io mi ricordo di quella lorella lì, quella cipollona. Ci torniamo, ci torniamo a quel periodo. Intanto raccontami un po', io sono curiosa di sapere, tu sali su questo aereo e arrivi negli Stati Uniti. E? Dunque, con i soldini guadagnati, lavorando con Gino Landi, con te, con Pippo, io poi ogni estate, appena finivamo di lavorare, facevo il biglietto e andavo a New York, Los Angeles, a studiare, a spendermi quei soldi bene, diciamo. Ad investirli per il futuro. Perché poi il sogno era il sogno di tutti noi, no? Vedevamo Flashdance, saranno famosi, ti ricordi che sognavamo? I primi video musicali, no? I primi video, poi c'era Thriller. I primi filmati dai grandi registi. E Thriller mi ha avvelenato di bellezza e quindi quel contagio che mi ha fatto Michael Jackson, tu lo sai bene, poi abbiamo ballato pure insieme su Michael Jackson. Non una volta. Non una volta, però di continuo ci ha fatto fare un pass a due. Un pass a due. Che era appena uscito Bad, tra l'altro. Quindi io non lo dicevo a nessuno che sognavo lui, intanto però mi avvicinavo e quindi andavo dove quelli che ballavano, secondo me benissimo, studiavano. Quindi ho cercato questo. Ho cercato, anche poi devo dirti la verità, insomma tu lo sai, le nostre origini sono particolarmente umili, quindi a grande fatica. Quindi quasi non mangiavo, insomma spendevo tutto per studiare perché il sogno era più grande di me, più grande di qualsiasi altra voglia. E questa è stata una nostra grande fortuna che non riconosco in tanti giovani di oggi, no? Pensi che manchi un po' questo, eh? Beh, manca tanto il sogno. Cioè sì, tutti pensano e sognano di avere ricchezza e fama, quando in realtà noi sognavamo di avere un mestiere, un'arte. E questo ci ha fatto veramente bene, anche con la fame. Ma c'era Don Mazzi, no? Don Mazzi che dice, so che i ragazzi se ne intende, che dice, date ai ragazzi un sogno e loro si caricheranno sulle spalle la loro vita. Senti, io vorrei fare con te un gioco che posso fare solo con te, perché non ci sono altri personaggi che abbiano collaborato con nomi così importanti a livello internazionale. Questo lo dice a tutti, vero, questa cosa? Sì, lo dico a tutti. Lo dico al tuo staff. No, io ti faccio nomi di personaggi con cui tu hai lavorato e tu mi dai un'immagine, una curiosità, un aggettivo, quello che ti pare. Perché sono nomi talmente tanto importanti che sono curiosa. Siccome sei pieno anche di curiosità, cominciamo con Madonna. Dunque, Madonna, ho dei sentimenti misti. Perché? Perché c'è la Madonna di oggi, che è una Madonna che io faccio fatica a riconoscere, perché le aspettative, non parlo esteticamente, parlo proprio di aspettative per come l'ho conosciuta. Artistiche. Artistiche e anche di persona, proprio. Ha fatto un grande cambiamento di testa e quindi non è quella Madonna che io ho conosciuto, non la riconosco nelle scelte, anche musicali o di stile, proprio di vita, di approccio. Mi ha chiesto poi di dire una cosa, ne sto dicendo mille. Un ricordo tuo. Madonna per me è stata la mia maestra, io faccio il mestiere, ho sempre detto che poi, dopo Dio, che è il più grande direttore artistico, viene Madonna. Perché in realtà ha costruito tutto e quindi le va riconosciuto questo. Io le riconosco di essere stata la mia insegnante più importante, quella che ogni giorno mi regalava un libro, mi ha educato. Me ne rendo conto sempre più oggi, anche quelle frasi che diceva, che sembrano frasi banali, buttate lì, in realtà sono pietre importanti che mi hanno costruito la struttura. Quindi più umanamente che artisticamente. Beh, artisticamente è chiaro a tutti, no? Stare a fianco a lei, fare il malacanà con 200 mila brasiliani o fare quello che abbiamo fatto, insomma. Oppure vita, quando tu mi hai permesso di andare a girare vita a Londra. Sì, perché mi hai anche attore in tutto questo, diciamo. Ogni tanto scappavo per fare qualcosa, però tu mi hai dato il permesso di andare durante buona domenica. Ci mancherebbe altro. Ti ho detto, Lory mi ha chiamato Madonna, ti prego, mi fai andare. Non è che fai, ancora aspetti, vai, vai. Ti ricordi, in camerino stavamo, insomma, tu mi hai detto, vai, vai. Perché mi faceva capelli neri, poi tornavo biondo nero. Vabbè, insomma, sono esperienze importanti, quelle le possono vedere tutti. Quello che mi piace raccontare è l'essere umano, quell'essere umano che mi ha fatto da madre e le riconosco tanto questo. Di essersi presa cura di me e di quello che pensavo, di quello che sentivo e di quello che potevo costruire. Io inconsapevolmente stavo andando a scuola, prendevo una laurea che oggi rende tanto, insomma. Il lavoro che faccio è importante. Prince. Prince, l'uomo più complicato del mondo. Forse è quello la star più difficile, perché è quello che ci davano più cose da non fare che da fare quando stavamo. In che senso? Era vietato guardarlo, vietato parlarci, vietato considerarlo presente in una stanza. Quindi anche sul palco non potevamo guardarlo. Quindi io per anni ho lavorato con lui. Pensa, mi sono avvicinato a lui solo quando una notte stavo a Londra con Madonna a fare i Brita Awards. e Prince era ospite nello stesso spettacolo. Quindi Madonna mi dice, Luca invita Prince e stasera facciamo una festa. Dico, ma io non ci parlo. Dice, ma come non ci parlo? Invece con lei era come io e te. Stavamo sempre insieme a chiacchierare così. E mi fa, ma digli venire stasera. Dico, non posso, non posso nemmeno guardarlo. In che senso? E quindi dovevo spiegare a Madonna il comportamento che dovevo avere rispetto a Prince, perché questo chiedeva lui. Lei lo invitò, quella sera venne, fu la prima volta che io parlai con Prince, perché io a Madonna ho bevuto un po', poco, due o tre, perché poi non bevo. Sì, tu non è che bevi tantissimo, io non bevi tanto. Però basta un bicchierino che mette l'allegria. E quindi lei mi dice, vai a dire a Prince, è arrivato, guarda, no, guardavo da lontano, si è seduto lì da solo con le guardie del corpo. Vai a dire di venire qua. Quindi un po' brillo, ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Quindi mi avvicino, le guardie del corpo mi guardano e lui fa così e si aprono. Cioè ha dato il lascia passare. Prince, ho detto, Madonna vorrebbe farti venire a ballare con noi. E lui mi ha detto, dia a Madonna che se vuole che Prince balla con Madonna e Madonna deve venire a Prince. Dico, oddio, ok. C'è un po' andato via, è stata l'unica volta che ci ho parlato, poi è sparito. Non è mai venuto da noi a ballare. Una storia complicatissima. Complicatissima. Capito, sicuramente non è una persona... Però il più grande genio musicale. Io a casa ho 500, almeno, brani inediti, mai usciti, perché io ogni giorno citava brani. Ci aveva scelti poi, eravamo dodici ballerini nel momento in cui lui ha cambiato nome. Era diventato il simbolo, formerly known as Prince. E noi eravamo dodici ballerini, ognuno per un brano di quell'album, a rappresentarlo. Quindi non andava più in tv, andavamo noi. E io ero Zeri Pop. Quindi ho preso la promozione di quel singolo. Un'esperienza molto forte, molto particolare poi. Beh sì, insomma, una personalità sicuramente molto, molto particolare. Senti, parliamo di Whitney. Whitney Houston. Whitney, sta per uscire il film. Bello. Ho visto il trailer e c'è pure una scena dove io ballo vicino a lei, che è stupenda. Whitney è stata un angelo veramente che mi ha salvato pure lei. Non so perché, ma in qualche modo tutte, tutti, tutti, anche tu, siete angeli che mi hanno dato una mano, perché non è stato facile. Io nel momento che non ero legale negli Stati Uniti, e lei cercava quattro ballerini, neri, alti un metro e novanta. E io ne sono nero, ne sono alti un metro e novanta. Quindi mi faccio dieci lampade, metto i tacchi finti, le scarpe, e mi butto in mezzo a tutti questi neri, ballerini straordinari, che mi hanno dato tutto il mondo. Alla fine lei mi sceglie. Mi sceglie e io le dico, guarda, io non posso perché non ho il permesso di lavoro. Quindi lei mi ha fatto un contratto per due anni e mi ha reso legale negli Stati Uniti. Quindi mi ha fatto un dono immenso. Poi l'esperienza è stata brutalmente forte. Tutto il mondo delle droghe, insomma la mia esperienza è stata molto difficile. Però quello che mi sono portato a casa è che dietro le quinte, mentre lei cantava e io non ballavo, quando smettevo di ballare, tutti andavano via, rimanevo lì e mi godevo lo spettacolo più bello della mia vita. Se penso a ogni canzone che lei inizia a fare in modo diverso, e l'umanità che c'era comunque dentro quella donna, e la mano che mi ha dato enorme, questo non glielo toglierà nessuno, è la più grande performer. Nella sua voce credo che ci fosse tutto. Dio, io dico spesso, non so nemmeno come raccontarlo, non si può raccontare quello che ho sentito. Daiana Ross, l'altra seconda complicata che però c'è stato risvolto, vietato guardarla, vietato mettere a contatto gli occhi, senza la prova ti vengono gli occhi storti perché non la devi guardare. Ma che si fa a stare sul palco con un artista con il quale non puoi... Facceva una gara a chi complicava più le cose, perché sembra un atteggiamento un po' da diva, più complichi le cose e più la gente ha timone di te, quindi più arriva la grande diva. Però che è successo? Io mi sono ritrovato due settimane dopo il Super Bowl, io ho fatto il Super Bowl con lei, che mi ha scelto intanto per metterla sull'elicottero che scendeva al centro dello stadio, in diretta mondiale, miliardi di persone che ci guardavano, la mia responsabilità... Una responsabilità? Vedi che succede qualcosa a Diana Ross che vola via con l'elicottero, quindi io stavo lì, una responsabilità incredibile, però mi ha regalato poi, vieni a casa mia, ci siamo rotolati sui prati delle sue colline insieme... Quindi poi è cambiato l'atteggiamento? È cambiato, sì, dietro quella durezza c'era una donna meravigliosa, c'è una donna meravigliosa. Kylie Minogue, con lei c'è stata anche una tua evoluzione. Assolutamente, perché Kylie mi ha dato tante opportunità, è arrivato nel momento dove io in Inghilterra avevo ruoli molto importanti, sono andato in Inghilterra a fare il giudice di ballando, ho fatto tante cose importanti, ma anche come direzione artistica e coreografo è lì che sono esploso, con Robbie Williams, Kylie, Gerry, tutti i grandi persone, c'è Milo Quai, Bjork, tutti... E lì è stato molto importante, Kylie poi mi ha fatto fare la prima regia di un tour, poi è il ritorno di Kylie, quando ha cantato La La La, quella canzone, insomma è stato veramente fondamentale. Una cosa molto carina che raccontavo l'altro giorno, che mi hanno chiesto ma io non ho mai conosciuto la regina Elisabetta? Dico sì, perché mi ha affidato due lavori, uno, il Royal Variety, che è questo spettacolo che si fa ogni anno per la regina, la famiglia reale, quindi ha chiamato Kylie e me per la regia e abbiamo fatto per la regina, quindi c'è stato il momento di presentazione. Bellissima. Dopo questa formalità, una cosa molto simpatica, la regina poi si avvicina sempre alle persone e fa una battuta. A me è toccato questa battuta, che far lì deve morire perché Kylie Milo che è alto 1,49 m, perfetta, una bambola proporzionata. Qui si avvicina una vecchia e mi fa finalmente una donna più bassa di me. A Kylie non l'ho mai detto però la battuta della regina Elisabetta non me la scorderò mai. Senti, l'hai nominata poco fa Gary Halliwell. Allora, è una sorta di figlia, di sorella, non di madre. Gary ha sempre avuto bisogno di un padre, quindi io là sono diventato, mi facevo padre. Nel senso che tu sai che poi noi siamo un po' lo psicologo delle star, no? Vabbè, perché poi vieni tutto il dietro le quinte. Con te un po' meno, tu sei mamma, tu sei madre. Però dai, poco prima di entrare in scena c'è sempre un po', come dire, quel momento proprio di condivisione. Ma tu proprio l'ultimo secondo, lì ci sono anni di preparazione. Con Gary ci sono due anni per la trasformazione del fisico, il convincimento che poteva farcela da sola. È venuta a vivere a casa mia a Los Angeles, le ho dato le chiavi di casa a Malibu, è venuta a Roma, lasciava la sua stanza a casa mia. Proprio una bambina? Una che ha bisogno di tanto, di stare molto vicino. Io ho fatto un percorso con lei molto interessante pure perché i problemi di alcolismo, quindi ho accompagnato anche agli incontri. E' stato molto costruttivo per me, anche come essere umano, perché mi ha ricordato le esperienze forti che ho avuto con Whitney Houston, ma ho potuto forse esserle vicino in quello. Perché poi ci si avvicina molto per fare bene in scena. Penso che anche se io non vado in scena più come ballerino, però è importante il rapporto, conoscere la persona, perché conosci gli aspetti che sono più forti. Quindi quando tu devi dire qualcosa in scena, se tu conosci quella persona, tu sai che parola dire e sai che quella persona dirà bene. E sai cosa non dire. E con Gary abbiamo gridato molto forte, abbiamo fatto esperienze molto forti. di Brita Wars, per esempio, dove la regina Elisabetta ha contestato la performance, perché già prima mi ha detto, Luca, devi inventarti la performance più bella della storia di Brita Wars. Ci saranno le Spice Girls che aveva appena lasciato, Madonna, Beyoncé, Ricky Martin. Noi dobbiamo fare le pagine intere dei quotidiani che devono essere dedicate a me. E tu giustamente. Ti dico io, non dormo, gocce, caffè, esaurimenti nervosi. E mi sono inventato queste gambe enormi che si aprivano e poi c'era questo punto G, scandaloso, su cui ho messo Jerry Hallwell, la rinascita di Jerry Hallwell, la morte di Ginger Spice. Ti dico quello che è successo in Inghilterra il giorno dopo, però le prime pagine le abbiamo ottenute. Mi ricordo, mi ricordo. Ma tu sei molto bravo in questo, molto molto bravo. Madonna mi ha insegnato che una coreografia non serve tanto a ballare quanto ad essere fotografata. serve una posa molto importante per comunicare. Una sola grande idea. Janet Jackson, ci arrivo, eh. Janet Jackson. Janet Jackson è stata la prima a guardarmi ballare in America, che è stato molto strano. In quel periodo che lavoravamo insieme, vado lì a studiare, quel giorno c'erano tutti i ballini professionisti, quindi riconoscevo quello di Madonna, quello di Michael Jackson, quello che ha fatto Fame, i ballerini saranno famosi, c'erano tutti. Perché stanno tutti qui? Poi vedo che c'era Janet Jackson alla porta che guardava. Non parlavo inglese, perché all'inizio non parlavo inglese, quindi non capivo. C'era Janet Jackson tutti questi ballerini. Alla fine della lezione, Janet Jackson si avvicina, mi fa una cosa, mi dice, insomma mi prende per fare il mio primo lavoro a nero, mi ha pagato, ero minorenne pure, e ho fatto Diamonds, il mio primo lavoro in America con Janet Jackson. Quindi anche in America, ogni tanto, qualche lavoretto un po' così, no? Perché si dice sempre in Italia, no? Mezza America, mezza America illegale. No, diciamolo, perché se no sempre in Italia. No, soprattutto sai, a servizio ci sono persone, i messicani, è come se non esistessero. C'è una zona d'ombra molto importante lì. Cioè basta che tu paghi le tasse, pensa che quelli che sono illegali lì pagano le tasse, se paghi le tasse nessuno dice niente. Io non sapevo nemmeno questo, poi l'ho capito, però funziona così. Tutto si impara vivendo il... Sì, purtroppo sì. Non è tutto Hollywood quello che sembra. Sì, anche se pure Hollywood non è proprio un ambiente così semplice. Ecco, andiamo avanti con Robin Williams. Robin. Robin. Ah, Robin, ok, Robin. Robin l'hai un po', no? Ne hai un po' accennato prima. Sì. Però se mi vuoi dire qualcosa di tutti e due, io... Robin, allora, essere umano, incredibile. Ti dico, insomma, sono stato scelto per fare una parte in un film come attore, è stato stranissimo. Dovevo pure cantare e tu sai che io canto malissimo. Quindi all'audizione mi invento, dicono Luca, guarda che ti voglio, tipo, c'è Vince Patterson, il coreografo di Michael Jackson. Mi diceva, ti vuole, ti vuole, ti vuole, ti vogliono il regista premio Oscar, tutti premio Oscar al tavolo, devi però cantare. Dico, no, non vengo, non vengo, non vengo. Alla fine mi invento, happy birthday, però la faccio tipo Marilyn Monroe, però da maschio, quindi cantata sexy. E mi butto sul tavolo, inizio a toccare tutti, mi spoglio, l'applauso alla fine, mi danno questo ruolo. Poi mi trovo sul set, purtroppo, con uno degli attori a cui io non stavo simpatico, non ho mai capito perché, perché non ci ho mai parlato. E mi aveva tolto il saluto, non mi ha mai salutato. Eravamo vicini per settimane e non mi consideravo, come se io fossi trasparente, ma riportato un po' a quando ero piccolo, a mio padre, insomma, mille problemi che ti risalgono tutti su all'improvviso. Robin Williams, quindi, ogni mattina, a proposito di caffè, veniva nel mio camerino a bussare alle 5 e mezzo di mattina, perché iniziavano le 6 sul set, e mi portava all'espresso. E mi parlava in italiano, tutte le sue parole in italiano, mi faceva dei monologhi, mi faceva ridere, ballare, papà, papà, ricordati, quando hai problemi guarda me. Quindi io ogni giorno sul set, lo guardavo, anche da lontano mi sorrideva. Si era accorto di questa cosa. Era disturbato, perché un giorno mi ha detto, mi dà fastidio vederti lì. Quindi tu guarda me, perché quando tu sorriderai, mi regalerai un sorriso. Un'anima bellissima. Quindi non parlo artisticamente che cosa è, quello che è stato fare quel film, che ce l'ho avuto anche altre volte con lui, ma umanamente, quello che mi ha dato, sono stati mesi molto complicati, perché io, tu sai, sono molto insicuro. Per me non è facile parlare, ne volte difficoltà a parlare. Cioè, se non ci fosse stato lui, probabilmente quell'esperienza sarebbe stata un incubo. Sì, l'avrebbero licenziato, credo. Finiamo con Michael, dove tutto è cominciato. Michael è l'inizio del sogno. Credo che sia stato veramente insieme vedere Thriller, vederlo ballare in quel modo. mi ha veramente avvelenato, dico, nel senso che è stata una droga. Per me c'era quell'obiettivo, cioè perlomeno ballare come lui. Poi purtroppo diventò il ballerino di Madonna. Infatti Madonna diceva ogni giorno, ma guarda tu che sfiga. Dico, io non ballo mai con Michael Jackson, sono diventato il tuo ballerino. Lei ci rideva sopra. Sì, perché l'immagine era troppo forte. Ma per me era... E lei un giorno, molto carina, mi ha portato a Mexico City a vedere Michael. Come sorpresa, con l'aereo siamo arrivati. Io, Madonna, seduti vicino a guardare Michael Jackson, poi mi ha detto ti porto a conoscerlo. Quella volta che avrei dovuto conoscerlo, purtroppo se non è dietro le quinte, ci apre la porta e era il sosia. Michael già era andato via. Quella è stata una scena terribile. Però poi Michael mi ha chiamato, Vince Patterson mi ha chiamato per dire puoi ballare in un video con Michael, che ho chiesto il permesso a Madonna. E lei mi ha detto di sì. Quindi io un'esperienza l'ho fatta molto importante. Ma la cosa più bella, e questa secondo me per te, tu la potrai capire, chi balla la potrà capire. Lo shock è stato che il coreografo ha costruito la coreografia su di me. Sai che un coreografo va in sala prova e sceglie un ballerino o un assistente. Ero stato scelto. Michael non c'era ai primi giorni. Quando è arrivato Michael, Vince, il coreografo, mi fa Ok Luca, fai vedere a Michael la coreografia. È la prima volta che vedo Michael Jackson. Ce l'avevo davanti a ballare per lui. E da lì questo ha creato un rapporto con lui molto stretto. Quindi mi prendeva sempre a giocare io e lui quando si annoiava, perché lui si annoiava sui set. Quindi fuori c'erano tir pieni di videogames, di cose da fare. E' stata un'esperienza fortissima di qualche giorno. Molto bella. Bellissima. Senti, quanto è difficile Luca? Cioè, qual è secondo te la tua carta vincente? Perché insomma non deve essere stato facile fare tutto questo. Cioè a me, soltanto a sentirti, proprio mi vengono i brividi. Io non ci credo. Eh, ma come ce l'hai fatta? Non lo so. In questo forse siamo anche un po' simili, nel senso che ci rimbocchiamo le maniche e non ce la vendiamo mai. Sì, ma io non credo che questo basti. Io non te lo so spiegare. Lo scriverei, lo venderei se ci fosse una formula. Cioè, tu ecco, una tua carta vincente non l'hai mai individuata. No, non lo so. Forse è la combinazione tra cuore e testa. Non mi tiro mai indietro, tu lo sai questo. Mi metto in gioco. Non ho paura di perdere tutto quello che ho. Perché vengo dal niente. Ho dormito per strada, non mi ha fatto paura. Ma rinforzavo paura. Paura di stare solo. Paura del buio. Io vado contro le cose che mi mettono paura. Cioè, a un certo punto ho visto che quelli bravi, quelli che facevano quello che io avrei voluto fare, facevano determinate cose che io avevo paura di fare. Quindi ho iniziato a farle per forza. Per esempio, mi sono inventato il coraggio. Io non sono coraggioso. Poi ho detto, me lo devo inventare. Cioè, faccio una cosa da coraggioso. Ancora oggi la penso così. E come la hai... Non sono coraggioso. La faccio da coraggioso. E non lo so. Perché se c'è una cosa... Madonna mi ha insegnato una cosa. Che oggi è importante, all'epoca dico, vabbè, la lista delle cose da fare. Tu sai che io le faccio, ho le liste per tutti, no? Sì, sì, tu hai fogli di carta ovunque. Chiunque mi sta intorno è pieno di liste. Perché? Perché Madonna dice, fai la lista delle cose da fare, metti quelle più difficili sopra, quelle che proprio odi di più, e poi quelle più facili. Sì, non il contrario, altrimenti sono tutti buoni, diciamo. E invece la differenza, secondo lei, ma io questo faccio nella vita, non so se questo è il motivo, però io inizio a fare la cosa peggiore, quella che odio di più e quella più difficile. Questo ti porta sempre a stare avanti. Io non so se questo basta. Poi ci sono tante le cose. Non lo so. La curiosità pure. Sono curioso. Nel senso, sono curioso di scoprire cose nuove. Tu sai che mi emoziona un ragazzo giovane, una ragazza che sogna, ma che ha talento. Voglio sempre premiare. E' la pagina di una rivista di moda con un look particolare. No, rifacciamo questo. Quando lavoriamo insieme arriva sempre con una serie di foto di sollecitazioni. Ti vedo così. E tu che ci pensi. Senti, vieni definito un artista. Ti vedo nuda. Ti vedo nuda. E l'abbiamo fatto. Ti ricordi la chitarra che ho costruito? E come no, me lo ricordo così. Ma come nuda, non ti preoccupare, non si vede da niente. Me lo ricordo io ai Vigiti del Fuoco dietro le quinte che aspettavano quel momento. E io stavo là dietro a piangere. No, a coprire più o meno. Coprimi. La cia se l'ho giocata io e te da soli. Eramo soli. Senza una produzione. E' un momento importante. Purtroppo, devo dire purtroppo perché quello spettacolo probabilmente se fosse stato prodotto da persone serie avrebbe avuto un altro epilogo. Ci siamo portati il proiettore, Lori, e te. Le grafiche ce le avevo in tasca. La chitarra te la sei portata tu. Non ti ricordi? Te lo ricordo molto bene. Io ti coprivo. Perché da casa, sai, da casa la gente pensa, beati questi, no? Che ce l'hanno così facile. E invece no, ci siamo rimessi in gioco parecchia. No, ma infatti a me piace proprio piacchierare con i miei compagni di viaggio proprio per questo. Perché mi piace svelare un po' di tutto quello che c'è dietro, no? Perché poi un grande successo. Tu hai un po' d'ore che non racconti mai quanto è stato difficile, quanto è difficile fare quello che hai fatto, quello che facciamo. Non voglio fare, c'è gente che fa cose molto più importanti, c'è gente nel mare che sta notando per la vita. Però nessuno regala niente a nessuno. E tutto è tanto, 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 tanto difficile. Per cui quel momento là, per esempio, quando sono chiamata, Lori, facciamo lo spettacolo in teatro, ce lo siamo costruito, lo spettacolo, insieme. Con grande fatica. Con grande fatica. Non funzionava niente. Io sono uscito a parlare al pubblico, con le lacrime. Non funzionava niente. E c'era Mengoni che a un certo punto ha fatto uno show di 20 minuti perché noi avevamo problemi che si era impallato il videoproiettore. Noi ce n'avevamo uno di proiettore perché di solito ce n'hai due, uno si impalla. Io non avevamo soldi. Io dico Marco canta, canta. Se lo ricordano tutti quel momento. Però che grande soddisfazione. E tu non l'hai mai volato. E' difficile. Quella visione mia da matto. Mai mai volato. Beh vabbè, insomma, il numero di Fever credo che sia passato alla storia. Beyoncé ne sa qualcosa. Che vogliamo dire? A proposito, sai che poi Beyoncé... Che poi ti ha chiamato. Io l'ho detto mille volte. Ha chiamato perché ha visto il tuo numero. Ha visto quella performance tua. Quindi mi ha chiamato. Io poi non potevo andare. E ci ho accogliato. Perché stavi facendo X Factor. Me lo ricordo molto bene. Perché tu mi chiamasti. Sì, sì. E mi dicesti Lorella, ma lo sai che mi ha chiamato Beyoncé perché ha visto il nostro numero al Festival di Sanremo. Che la tuccarice era italiana. E se non fosse stato per lei, lei non l'avrebbe mai visto. Tutti i miei lavori li faccia vedere. Poi l'ha vista a te e mi hanno chiamato. Stupendo. Bellissimo. Veramente incredibile. La chitarra ce l'ho io. Sì, lo so. La tua. Lo ricordo. Me lo ricordo. La sei tenuta tu. No, speriamo che no. La voglio incorniciare a casa nuova. Senti, se tu potessi ricordare una o due immagini che veramente sono impresse nella tua mente di tutto questo viaggio che hai fatto all'estero. Proprio due momenti che per te sono fondamentali, simbolici della tua carriera. Allora, uno, non me lo scorderò mai, è la telefonata che ho fatta a mamma perché io ai primi anni non potevo permettermi di chiamare mamma perché costava troppo. E all'epoca? Io poi non parlavo inglese, quindi ho vissuto mesi nel buio, anche nel silenzio. Non capivo quello che diceva la gente, non capivo quello che diceva in televisione, non avevo amici italiani. E pensavo tanto a mamma, dico vorrei tanto chiamare mamma, ma non potevo perché il telefono costava troppo. Quando poi Madonna mi ha preso, la prima telefonata è stata a mamma, mi viene piantata. Però ho detto mamma mi ha preso Madonna. Dai, aiuto. Vabbè. Mamma mi ha preso Madonna. Quel momento là, che non è un'immagine, ma mi ricordo l'emozione di quel momento. Fortissimo. No, soprattutto io mi metto poi nei panni di mamma, non ti sentiva da mesi, che non sapeva minimamente dove tu fossi, che cosa stessi vivendo. Per cui il momento in cui le arriva una notizia così, credo che sia una gioia. Ma infatti lei mi ha lasciato andare verso il viaggio, che mio padre cercava di non farmi partire, ma poi alla fine ha firmato lo minorenne, dicendo mentre camminavo, non guardare indietro, Luca, non guardare indietro, non guardare indietro mai. Fortissimo. Parliamo un po', parliamo un po'. Nove anni, tu sei arrivata che avevo dieci anni, perché tu sei arrivata l'anno dopo. Sì. Questa passione per la danza, com'è nata? Cioè, c'è stato un momento in cui proprio hai sentito che quella era la tua strada? Allora, io ho sentito la musica, adesso mi spiego meglio. In quella zona lì, tu sai che davanti alla scuola hanno fatto un murales dedicato a me, bellissimo. Tutto il palazzo, la facciata. È tanto tempo. C'è un murales bellissimo, perché era un po' la via Crucis da casa mia verso lì. Io magari non ne parlavo nemmeno con nessuno, subivo questi atti di bullismo, di attacchi, di cose, perché mio padre era il primo che si girava dall'altra parte, lui aveva l'officina lì sotto. Quindi quell'atto di coraggio è lì. In realtà, fin da piccolo, io li subivo insomma dalle persone. E la cosa che facevo sempre dalla testa, a parte che non parlavo, lo timio, non riuscivo a parlare da tante persone, ma cantavo nella mia testa, mi immaginavo balletti sempre nella testa. Per cui quando a casa con mamma io mettevo la musica e ballavo, mamma mi diceva sempre, sai io volevo fare la ballerina, ma non sono mai riuscita perché non mi hanno fatto studiare per fatto dei soldi. Quando hanno aperto la scuola di ballo, hanno messo un manifesto proprio davanti a casa, quindi io e mamma, mano nella mano, vediamo questo manifesto di Enzo Paolo Turchi e Lidia Turchi. E mamma diceva, ma vuoi andare? Dico sì mamma, sì. E quindi lì è stata la salvezza poi in realtà. Era proprio il tuo rifugio anche. Il rifugio, perché poi ho conosciuto gente importante come te, gente... Vabbè, io a lei è importante. No, importante per me. Per me, tu sei stata un esempio, anche la tua mamma, Roberto, come... Io mi ricordo che voi insomma vendevate le calzamaglie per sopravvivere e io compravo una calzamaglia all'anno. Questo va detto. C'erano sicuramente delle cose che ci accomunavano. Delle grandi difficoltà. E tu sei stata un grande esempio, anche di... Eri sempre lì in prima linea, molto dura eri, molto... Però poi mi ricordo quando ho visto la prima volta quei capelli sciolti. Sì, perché stavo sempre con lo scignone. Però mi dispiace, perché se avessi conosciuto un po' più di te all'epoca, forse avrei potuto starvi anche più vicino. Invece tu non l'hai mai detto niente. No, non mi sono mai lamentato mai, no. Che bambino eri? Ma ero un bambino molto libero. Io sognavo e sorridevo sempre, molto felice, mi svegliavo felice. E poi mi sorprendevano questi attacchi, non li capivo. Nessuno me li spiegava. Mamma mi è stata vicino, però non aveva gli strumenti. Non aveva gli strumenti, non aveva il carattere. Per dare a me gli strumenti per affrontare. Il carattere sì. Mia madre mi avrebbe difeso davanti al mondo, l'ha fatto. Io poi quando sono cresciuto ho difeso lei da papà. Papà l'ha mandata in coma davanti a me con un calcio. L'ha cercato di uccidere con una bottiglia rotta su un buro. Io mi sono messo davanti. Io e mamma siamo stati dei guerrieri. Però mamma non aveva gli strumenti per spiegarmi come affrontare il vicino. Mia cugina mi urlava per strada, frocio. Insomma, è stata... Lo dico perché è importante dirle queste cose. Fanno male. Per cui non so che bambino sono stato. Un sognatore, un bambino che sognava. Ma io sentivo la musica nella testa per non sentire le urla. Quindi mi inventavo le cose. Forse questo è stato il primo esercizio per diventare creativo. Il tuo mondo. Era un mondo parallelo. E tu ti hai ricreato. Tu sai che quando creo qualcosa... Io non penso a un passo. Io creo un mondo. No, a una dimensione. È quello che facevo da bambino. Infatti non so almeno come spiegare quello che faccio. È difficile. Però ascolto un po' di musica e poi dico facciamo così così che a me inizia a inventare tutto. L'ambientazione, le luci, la scenografia. Senti Luca, se tu oggi con tutta la tua esperienza, con la tua vita potessi parlare a quel bambino lì, cosa gli diresti? Ma io non cambierei nulla. Penso che il percorso che ho fatto da bambino sia stata la strada giusta. Cioè sono sempre impegnato, quindi bravo. Al bambino direi bravo. Perché sai che io mi sono concesso di sognare dove nessuno sognava. In quella zona lì. Prima Valle, quelle zone lì. E tanto è vero che tanti sono rimasti in quel mondo costretti a non sognare, a fare una vita brutta, già scritta. Io invece ho avuto la fortuna, per questo dico siete persone importanti. Quando sono arrivato nella scuola di ballo io ho conosciuto altri sognatori. Sì, perché era un po' la sensazione anche per noi, no? Cioè di vivere comunque in una dimensione in cui non sarebbe mai successo nulla. Esatto, senza speranza. Invece poi a un certo punto ti rendi conto che si può cambiare. Si può. Attraverso quella danza, l'arte, la costruzione di cose, lo stare insieme, credere in una cosa, impegnarsi tutti i giorni, rivedersi alla stessa ora tutti i giorni e non dare importanza alle altre cose. Senti, visto che tu parli di tutti questi valori che sono valori che secondo me sono valori fondamentali per costruire un talento, no? Tu insomma vicino ai ragazzi ci sei stato molto, tu sei stato direttore artistico di X Factor, direttore artistico di Amici, quindi insomma due talent. Ecco, come, che esperienza è stata proprio nella tua dimensione artistica? Ah, guarda, è molto forte, ancora forte. Io ho migliaia di ragazzi che hanno partecipato a tutti i talent, ma anche all'estero, in Inghilterra, tutti quelli che ho fatto, perché ho fatto X Factor, le ultime quattro edizioni le ho fatte in Inghilterra, ho fatto quello spagnolo, ne faccio tanti. Sono migliaia di ragazzi che partecipano, quindi sono anche migliaia di ragazzi che purtroppo non ce l'hanno fatta, un'esperienza molto forte. Crea è una sorta di occasione incredibile per alcuni, ma è anche la chiusura di carriere di tanti. Per cui è un'esperienza molto forte, è avere persone che si ricordano di essere esseri umani, è molto importante lì accompagnare quei ragazzi, perché tanti arrivano che possono affrontare un palcoscenico, ma soprattutto possono affrontare tutto quello che c'è intorno, che è tanta confusione, no? Perché devo andare in televisione, vengono messe alla prova, giudicati, no? Sono tante le difficoltà. Io per esempio sono felice di vederti lì, tu sei importante per i ragazzi. C'è lo spero. Sono stato utile. Quando dico importante non perché sei la cuccarini, ma perché io conosco l'Orella, quindi so che tu sei importante umanamente, questa è la ricchezza più importante. E quando vai a affrontare un talent show, o ballerino, o cantante, hai bisogno di trovare degli esseri umani. Quindi ho cercato di essere più umano possibile, è stata questa l'esperienza dietro le quinte. Io ho vissuto con loro, vivevo lì, tu sai, vivo lì 20 ore al giorno, sto lì, non conosco più, non mi ricordo nemmeno più purtroppo di mia madre quando sto lì dentro. Quindi sono occasioni meravigliose. Poi ci sono le storie magnifiche come Imaneskin, che io ho cullato e protetto in tutti i modi, perché in realtà loro sono arrivati che vogliono fare esattamente quello che stiamo facendo adesso, però sono arrivati dalla strada che abbiamo preso noi. Quindi arrivare lì e raccontare di un percorso da superstar, io ho capito che avevano un talento, questo è fondamentale, poi spogliarsi anche di tutte queste medaglie che noi abbiamo, no? E quindi mettersi ad ascoltare dei ragazzi giovani e riconoscere che anche loro possono portare ricchezza, e una consapevolezza che è più fresca, se vuoi. Può essere anche questo l'innovazione, cioè non devo per forza essere io alla guida di una... Mettersi al servizio. Al servizio, ho messo al servizio il mio mestiere per la prima volta e la creatività era la loro. Questa è stata un'esperienza bellissima, sono molto orgoglioso di quei percorsi che poi... Poi però ci sono tanti talenti appunto che ritroveremo magari in altri momenti. Infatti magari non è il momento giusto, non è detto, per alcuni dico, non è detto che non ci sia un futuro, alle volte si sbaglia anche il momento. Però bisogna anche essere molto onesti, no? Certo. E dire, devi accettare anche il no, perché noi due sappiamo, come tanti siamo pochi, quelli che hanno fatto successo nel nostro mondo. Però anche noi non ci siamo arresi, no? Chi ci ammazza? Cioè, prima che qualcuno... Ti ricordi quando ti mando un messaggio di colori? Ma qui mi balli ancora certo! Le scarpette, no? Al chiodo, no! Sì, tu mi hai fatto ballare col tacco 16, stai zitto. Ma senti, parliamo del talento, vabbè, per te è un fattore fondamentale, da te che c'è scritto anche un libro nel 2015, no? Con Mondadori, il fattore T, che non era... Tommassini, io pensavo che fosse, no? Il fattore Tommassini, in realtà era un po' un gioco. Era soprattutto il fattore T, talento. Sì. Ecco, se mi dovessi dire proprio quali sono le tre parole chiave del talento... Io non le so, ho cercato di spiegarle in un libro. Però cos'è un talento? È un talento, è un'anima speciale, che ha un dono di Dio e un lavoratore sulla terra. Perché è la combinazione di queste due cose. Cioè, una cosa preziosa, come il signor Swarovski, che si è inventato la macchina per tagliare quella cosa che brillava e fare quelle sfaccettature. Tu c'hai un dono di Dio, come un figlio, poi dopo lo devi, come dire, modellare, curare e rendere anche libero. E quindi è la cura del tuo talento. Come si coltiva un medico, un curatore? Come si coltiva un talento? Si coltiva dedicandogli il più tempo possibile. Io so che più lavoro e più sono bravo. Più lavoro e meno sono scontento, perché non sono mai soddisfatto del mio lavoro. Cioè, io vedo solo i difetti. La dannazione è che vedo una cosa che ho fatto, non mi godo la bellezza di quella cosa, ma soffro di quello che non sono riuscito a fare. Pure tu. Sì. Siamo dei dannati. Però forse è quello che ti fa fare sempre un po' lo scatto in avanti, no? Sì, 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 però devi saper convivere con quella sofferenza, con quella cosa che non puoi spiegare alle persone felici che ti fanno l'applauso. Perché tu dici, sì, però avrei voluto fare meglio. Vabbè, però c'è sempre un'altra possibilità. Ah, certo, siamo qua per quello. Senti, parliamo invece, saltiamo, diciamo, questo momento americano. Poi tu negli anni 2000, primi anni 2000, ritorni, diciamo, in pianta stabile in Italia e collabori praticamente con tutti. Cioè, io potrei fare una lista di nomi, Mengoni, Elisa, Paola e Chiara, Ambra Giolini. Io e te abbiamo fatto un sacco di cose. Eh, Ros, Laura. Mamma mia. E vabbè, chi più ne metta, insomma. Quali sono i momenti più belli che hai vissuto in quest'arco italiano? Le cose in cui hai sentito proprio di crescere di più? Artisticamente o umanamente? Guarda, mi sapevo pensare a Giorgia, perché Giorgia, io ho conosciuto, vivevo in America. All'aeroporto a un certo punto vedo Alex con questa ragazza che mi presenta. Luca, guarda, la mia fidanzata è Giorgia. Ma io, vivendo in Italia, non sapevo. Poi purtroppo Alex non c'è più. Giorgia scrive una canzone per ricordare, fare questo tributo ad Alex. E mi chiama e mi dice, ma ti ricordi all'aeroporto di Londra, Heathrow, che Alex ci ha presentato? Dico, no, ma eri tu. Tu sei Giorgia, quella che canta. Perché poi l'avevo. E quindi mi ha dato la possibilità di fare la prima regia di un videoclip, marzo. Ed è oggi forse l'operazione, insomma, il momento, l'operazione dico perché veramente è stata chirurgica, fare questo omaggio ad Alex, farlo con Giorgia. Giorgia che si è concierto, mi sono nuda pure lei lì, perché è talmente bella, è proprio bella. Ed è un po' monumentale quel momento, per me lo è. Però vedo che anche per tante persone è un momento importante. Qui ci sono dei momenti, insomma, anche Laura, la Pausini. Tu hai lavorato anche con Raffaella. Con Raffaella, sì, con Raffaella, tanto abbiamo fatto Carramba, tanto nel senso che è stato impegnativo con il Carramba, con Raffaella, perché era il momento anche di cambiamento. Perché poi a me chiamano spesso gli artisti quando vogliono fare un grande cambiamento. Ma poi bisogna rompere gli schemi. Rompere gli schemi e andare da un'altra parte, ecco, non a quel paese, ma da qualche parte. Senti, c'è un elemento che accomuna tutti questi personaggi importanti con cui tu hai lavorato? Cioè, c'è un comune denominatore che tu trovi? Allora, in quelli che mi hanno segnato e mi piacciono di più, intanto le fragilità. Grandi fragilità. E la fragilità di un artista, credo che sia, oggi posso dirlo, fondamentale, perché si costruisce parecchio su quelle debolezze, su quelle fragilità. È dove c'è il cuore, dove c'è l'anima, è la parte che è interiore. Ora, poi ci sono delle colonne importanti che vanno avanti, lavoro e tutto, però io non mi ricordo di quelle esperienze un po' freddine, io le chiamo un po' marchette, nel senso che uno fa perché sono lavori importanti. Io mi ricordo più di quelli con cui ho avuto un'amicizia forte e sicuramente sono stato indispensabile anche umanamente. Non so se ho risposto alla domanda, però alla fine sono anche molto contento di questo e oggi scelgo sempre di più queste persone, oggi scelgo, non so, Iago, lo scultore con cui sto creando tante cose nuove, tante cose diverse. Mi piace andare in Afghanistan con la, tu ne sai qualcosa, insomma, per aiutare con Pangea del sociale, insomma. Sistiamo per aprire una casa d'accoglienza a Milano con McDonald's e con Iago che creerà una cosa molto speciale e quindi costruiamo questa casa d'accoglienza che ancora non c'è a Milano per i bambini che scoprono di avere un tumore e le famiglie non hanno la possibilità per quel momento di buio di sostenere. Ecco, questo è, non voglio fare, non sono un santo, ma per me mettere l'arte e la mia carriera, il mio nome a disposizione di questa cosa oggi è la cosa più importante. La bellezza che cura. Tu l'hai fatto da sempre, io non ho avuto occasioni o forse non gli davo, è molto importante, è una delle più, è una della, diciamo che la ricchezza forse sta lì, perché i soldi sì, sono importanti, perché ci si mangia, ci si fa tante cose, ma la soddisfazione di fare una cosa importante per gli altri è veramente un'emozione incredibile. Sì, ma anche perché poi effettivamente quando tu spendi e investi anche dei soldi in un progetto, non è detto che quel progetto sì, sarà sicuramente utile, ma se quel progetto è più bello, lo è ancora di più. Forse è un po' questa la differenza, no? Sì, a me. Non importa, cioè non basta fare, ma bisogna fare bene, al massimo delle tue possibilità. Sì, infatti ecco, per esempio con Laura, pure un'esperienza molto forte, abbiamo appena fatto il concerto con le altre sette donne. Bellissimo. Abbiamo appena fatto il concerto con Laura, ci siamo messi a creare una nessuna centomila, uno spettacolo che ci abbiamo messo tre anni, perché Covid ci ha fermati, però abbiamo donato tanto, soprattutto lei e le altre, e abbiamo aiutato tante donne. Senti Luca, per una persona come te che ha sognato tutta la vita, io immagino che ci siano ancora tanti sogni nel cassetto, no? Il cassetto è pieno. Se tu oggi pensi, però dimmi il progetto più folle, più speciale veramente che ti piacerebbe realizzare. Un'opera lirica, come regista, e poi io voglio fare un film da regista, almeno uno. Poi, se non va, insomma, ho il mio mestiere, per cui continuo a fare quello che faccio. Poi volevo fare un film, come dico io, me ne hanno offerti tanti, io faccio tanti film, lavoro con Ferzan Obstedeck, faccio tutte le coreografie dei tavoli, quando iniziano a ballare sono le mie. Lui dice che porto fortuna, quindi faccio film, adesso esce Diabolic 2, che ho curato le coreografie, con i Manetti Bros, continuo a fare tanto cinema sempre. Se viene un americano, di solito mi chiamano a me a girare un film in Italia se serve un coreografo. Quindi c'è una carriera nel cinema che continua ad andare avanti bene. Però io vorrei fare un film dove racconto qualcosa di importante. E ho due storie, due amici, che sono storie che secondo me io potrei raccontare bene, vorrei fare quelle cose lì. Insomma, mi auguro di farle prima di morire. Ma, oh, eh. Eh no, lo dico perché magari muoio domani, peccato che non l'ha fatto. Senti, c'è una pop star italiana, internazionale, con la quale non hai mai lavorato e ti piacerebbe proprio collaborare? Allora, beh, ce ne sono tante nuove. Vabbè, dimmene qualcuna. Per esempio, Lady Gaga non ci ho mai lavorato. E questo un po' che un Beyoncé ci ho lavorato. Beh, Lady, su, dai. Eh sì, però ecco, non so, ho lavorato quasi, insomma, ho depennato delle liste. Vabbè, io non so se mi sono dimenticata qualcuno nella lista, eh. Beh, ce ne sono tanti, insomma, importanti, sì. Non abbiamo nominato tanti, Pavarotti, non so, tanti, Andrea Bocelli, il Senato del Silenzio, insomma, tante cose importanti. Senti, parliamo un po' di noi. Sì. Noi abbiamo fatto un sacco di cose insieme, tantissime. Ecco, se tu, così, di getto, volessi pensare ai due, tre momenti topici della nostra carriera insieme, cosa ti viene in mente? Allora, secondo me il lavoro più bello che abbiamo fatto insieme, anche perché abbiamo costruito proprio insieme, il pianeta proibito, quello di cui parlavamo prima. Anche perché era un Luca, una Lorella, al, come dire, abbiamo messo a servizio di uno spettacolo tutto quello che noi sappiamo fare e ci piace fare. Quindi anche, eravamo da soli, senza una grande produzione, però la soddisfazione di vederti in scena quella sera, poi ogni sera, quanto eri felice, ed ero felice, ed erano felici le persone che ancora oggi ci fanno comprensione. Quello, secondo me, è veramente un capolavoro. Poi abbiamo fatto tante cose che rimarranno... Ma abbiamo fatto anche charity, sui charity in teatro. Sui charity che è il mio musico preferito, tra l'altro, storicamente, perché Bofossi ha segnato proprio il mio stile, mi ha condizionato molto. E poi, non so, le sigle. Abbiamo debuttato e abbiamo praticamente inaugurato Sky 1. Sky 1 che non esisteva, da matti. Ma anche poi il coraggio di andare. La notte mula, vogliamo dire, anche i nostri balletti che erano... Ma anche quelli con Morandi e... 8 minuti e mezzo, ciascuno, credo sia, forse nel Guinness, possiamo entrare nel Guinness dei primati? Ti vorrei dire che alcuni durano 13 minuti. Vabbè, io mi sono tenuta nella media, Dani. Ma anche a uno di noi, che è la trasmissione sulla Rai... Con Gianni, come una con Gianni Morandi. Sera, Paola, Cortellesi, e quei balletti là sono state esperienze molto forti, perché tu sei più matta di me, non sembra, ma... Perché non sembra? Non sembra, mia madre dice di no, perché dico, guarda che Lorella... No, tu sei quello pazzo. No, quella stai in sala di prova, alle 3 di notte. Dico, Lori, basta. Io che dico, basta a te. Però pure lì abbiamo affrontato, tu hai affrontato con me delle cose che io con pochi ho potuto fare nella vita. Se c'è Lorella, so che posso fare tanto. Io ti ho chiesto tanto. Quella è una, per esempio, a uno di noi, dei balletti che duravano 12 minuti, cantavi dal vivo, perché sei decoccio. E io dicevo, Lori, tu ti imprendi. Ma sei sicura? Ma sei sicura? E io ti facevo ballare come una matta, cambiare costume e scenografie. No, io ti dicevo, però, cosa ti dicevo? Io ti dicevo, proviamo. Se riusciamo, bene. Altrimenti... Sì, ma con te proviamo significa che ci riusciamo. Piuttosto muori, ma... Senti, c'è un progetto che avresti in mente per me che non sei mai riuscito a realizzare? Farti stare zitta, farti dire bestemmiare. Questo potete chiaro. No, ma io parlavo artisticamente, però. Perché ho sentito che qualche parolaccia ti è scappata ultimamente. Vabbè, parolaccia. Ci hai messo però 40 anni. Porca paletta, io che posso dire? Aiuto. Hai detto anche la C-word. No? Quando? Una volta, credo. Qualcuno a quel paese l'hai mandato, credo. Sì, certo. Ok. Dentro di me, le volte. Ti sei tolta delle soddisfazioni. No, però ci sono tante cose che noi possiamo fare insieme. E che noi ci ritroviamo, poi ci abbiamo dei cicli. Hai ragione. Perché ci siamo lasciati, io partivo, poi tornavo, poi tu mi richiamavi, e poi ci ritrovavamo più grossi, più maturi, grossi di... Di spalle. Di esperienza, di consapevolezza. È vero, noi è così. Noi ogni tanto ci lasciamo e poi ci ritroviamo. Però la cosa bella è che ogni volta che io ti incontro, è come se ti avessi lasciato due ore prima. Senti, che sapore ha avuto questo caffè oggi? Allora, io ero molto contento. Quando mi hanno detto, Lorella ti vuole intervistare, Daniela? La nostra Daniela che qui condividiamo. Ufficio stante. Oddio, non mi ha mai intervistato Lorella. Perché abbiamo sempre pensato a comunicare insieme, a ballare insieme. Però non abbiamo mai fatto... Io in questo ruolo non ci sono mai stato. E quindi questo caffè... Forse non ti piace nemmeno tanto, eh? Sono contento, sì. Ma dico in generale. No, perché faccio fatica. Faccio fatica perché non mi piace guardare indietro, poi mi emoziono, quindi do tenere... Però con te mi sono sentito tanto bene. Sono tranquillo. Sono un po'... Diciamo che gli anni portano pure un po' di... Come dire, forse il Covid, tutto quello che c'è stato, mi ha un po' cambiato anche. Mi ha dato un po' di serenità. Vabbè, ma poi tu... Il fatto di ritrovarti è molto importante. Lo sai che con me sei sempre a casa. Sempre, ma infatti vedi non sono agitato per niente. Grazie. A te, grazie. A noi brindiamo col caffè, eh? Sì, anche se è una moca. Io faccio finta. Niente, guarda, la prossima volta prendo le cialde, dai. Le porto anche io. Ora, la prossima volta prendo il caffè. E' la prossima volta prendo i'ai un po' di... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.